intelligenza artificiale l'allarme delle big tech può portare all'estinzione allora aspetta un attimo che mo me lo segno. Paola Mastracola scrittrice che dice sono molto attratta da chat gpt di cui però lo dico subito so poco o niente ripeto sa poco o niente di chat gpt eppure dice che sa tutto ma non insegna il professore perfetto per i nostri tempi grammi i ragazzi non sapranno niente allora secondo me Paola Mastracola dovrebbe un attimo prima iscriversi a chat.openai.com e provare questo strumento per capire cosa può fare cosa non può fare e dire che sostituirà gli insegnanti addirittura sarà una sciagura per il sapere dei nostri figli potrebbe essere un attimo rivista come opinione alla luce di che cos'è davvero in questo momento una LLM però c'è anche gli albori chat gpt usato dal 19 per cento negli stati uniti forse nel senso che qui in italia io faccio continuamente sondaggi e tutti gli eventi dove vado secondo me se c'è un 5 per cento forse 10 per cento la popolazione che quantomeno l'ha provato è già tanto quindi stiamo parlando di qualcuno che sta andando in giro a dire che questa cosa è spaventosa ci porta all'estinzione ci rende tutti più stupidi ma non sa neanche di cosa stiamo parlando ma soprattutto non ha neanche provato però facciamo così siccome c'è qualcuno che invece se ne intende parecchio che sta andando in giro a dire che noi ci estingueremo tutti diventeremo molto molto ignoranti e deficienti vediamo allora di che cosa si tratta appello di ilon musk e mille esperti come lui stop allo sviluppo di chat gpt rischiamo sconvolgimenti epocali stop a allora parte il fatto che lui era in open ai e ci aveva investito poi comunque per qualche controversa nel 2019 se n'è andato e forse si sta un po' mangiando le mani perché ha perso comunque una partecipazione in un'azienda che pare valga tra i 30 e 40 miliardi già adesso ma il tema è che il giorno dopo aver fatto quel super appello dice truth gpt mask racconta come sarà fatta la sua intelligenza artificiale quindi capite vuole fermare ma quella degli altri non certo la propria ma facciamo così visto che diciamo tutti stanno parlando a sproposito facciamo parlare qualcuno che invece se ne intende veramente luciano floridi comunque una diciamo uno filosofo illuminato per quanto riguarda le questioni legate per esempio al cyber spazio alla diciamo l'infosfera e a tutto quello che riguarda appunto adesso anche le questioni legate all'intelligenza artificiale io vi consiglio tra l'altro di leggere un suo libro che appunto riguarda l'etica dell'intelligenza artificiale e lui dice lo dice lui ripeto luciano floridi non io alcune persone continueranno a vendere previsioni catastrofiche con scenari distopici che hanno luogo in un futuro sufficientemente distante da garantire che tali geremia non saranno più in circolazione per essere smentiti la paura vende sempre bene come i film sui vampiri e sugli zombie luciano floridi che parla di tutte queste previsioni in fauste sull'intelligenza artificiale io sono perfettamente d'accordo ve lo dico da ex giornalista bad news is a good news se su 10 notizie sull'intelligenza artificiale si parla di come aiuterà a diagnosticare malattie diagnosticarle più in fretta ci salverà dal riscaldamento globale oppure porterà delle persone che non avevano mai parlato a parlare via dicendo quelle vanno un po in sordina l'appello di ilon musk catastrofico fermiamo tutti se no siamo nei guai a invece forse fa vendere di più fa fare un po più di click e mo me lo segno